Ciao a tutti, lui e lui, e lei e Sofì, e insieme siamo in Me Contro Te. E state per vedere un pezzetto del nostro nuovo film, Me Contro Te il film, il mistero della scuola incantata. Buon divertimento, yee yee, nii nii nii! Sofì, lui! Pongo, questa scuola è pazzesca! Secondo la leggenda era una scuola delle fate tempo fa. E secondo la verità? Un ammazzo di pietre abbandonate che il maestro Pongo ha tirato a lucido. Hai fatto davvero un ottimo lavoro. Muoviti, tanto! Ciao, amici! Certo, che peccato, una scuola così bella e in mano a una preside così... così... Cattiva! Strana! Una vera strega! E noi abbiamo lasciato Pongo solo con lei. Non è da noi. Andiamo a recuperarlo. Salve, signora preside! Ha per caso visto il nostro amico? Pongo! Cosa gli hai fatto? Ha avuto problemina con zucco che gli ho offerto. Precisamente... Era avvelenato. Perfidia! Il signore S! Il signore S! Il signore S! Il signore S! Grazie.